10 MARZO 12 Eletti, amici cari, restate nel mio amore, stretti a me in questo tempo di tenebre e io, io, Gesù, sono la vostra luce. Sposa amata, ogni uomo che si stringe al mio cuore, perché ha accolto il mio invito, ogni uomo che si trova in tale condizione è felice in me, anche se, per un momento, deve subire il travaglio della vita. Nelle fitte tenebre di questo momento storico io, io, Gesù, sono la luce fulgida, che accompagna il cammino dell'anima ardente. Pensi, sposa mia, pensi che possa essere deluso chi confida in me, chi spera in me, chi fa progetti con me, Gesù? Pensi questo, perché le cose vanno male nella vita di molti? Mi dici adorato, dolce amore, chi confida in te non deve avere il minimo dubbio, le tue promesse si compiono sempre. Il tuo cuore è la fortezza sicura, dove ogni uomo può avere un posto, se vuole. Gesù adorato, la notte del mondo si fa sempre più tenebrosa e cupa, solo in te, Dio, c'è speranza. Molti si stanno facendo cadere le braccia, perché tutto va male ed il maligno fa sentire forte il suo sibilo. Dolce amore, guarda con pietà l'uomo nella sua miseria, non lasciarlo nella sua condizione. Sostieni chi cade, guarisci, amore infinito, chi geme nel male morale e fisico. Sia tutta la terra la nuova Gerusalemme, dove tu passi per le strade e guarisci gli infermi, liberi gli indemoniati, ti accosti ai lebrosi e li mondi. Dolce amore, questo hai fatto un tempo, questo continua a fare. La terra geme e soffre sotto il peso delle gravi colpe, ma tu, tu, che sei solo amore e tenerezza, versa i fiumi della tua infinita misericordia e tieni sospesa la tua giustizia perfetta ancora per un po'. Sposa amata, fiumi di misericordia invadono la terra, ma ben pochi sono quelli che l'accolgono gli uomini e sono attratti dalle cose del nemico. Egli usa tutta la sua astuzia per ingannare e sedurre e gli oggetti di seduzione sono ovunque. Concedo la mia misericordia, sposa amata, ma non sono pochi quelli che non l'accolgono, ingannati dal nemico infernale che, da prima, non mostra il suo vero volto, solo in ultimo lo mostra. Mi dici dolce amore, conosci bene la natura dell'uomo di terra, che si lascia ingannare, facilmente non vede le tue meraviglie né si bea delle tue parole. Comincia a capire, quando diviene uomo di cielo, perché è entrato in lui lo Spirito Santo, che cambia tutto. Penso ai discepoli, paolosi ed incerti, prima della discesa su di loro dello Spirito Santo, poi, forti e decisi al tuo servizio in loro era mutato tutto. Dolce amore, Santissimo Gesù, scenda sulla terra, tormentata e confusa, lo Spirito Santo, come scese allora sui discepoli, che cambiò completamente. Manda lo Spirito a cambiare la faccia della terra e ci sia presto la nuova creazione. Sposa amata, non temere e non tremare, se tutto pare crollare. Questo deve accadere, secondo la mia logica il mondo va purificato da cima a fondo. Dopo ci sarà la nuova primavera, così bella, come mai è stata. Gioisca in me il tuo piccolo cuore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vivete, bene, in Dio questo tempo e ogni giorno si è volto al suo servizio e dall'adorazione. Se fate questo, per voi non ci saranno più tenebre, ma fulgi da luce. Vedete, piccoli miei, quanto è importante fare le buone scelte? Mi dice la mia piccola figlia dolce madre, abbiamo ben compreso che le cattive scelte portano terribili conseguenze, molti gemono e soffrono, a lungo, per avere fatto una cattiva scelta. Madre cara, nel presente la confusione sulla terra è massima, con la tua luce dirada la nebbia e fa sorgere il sole. Figli amati, figli, tanto cari al mio cuore, sta a voi la scelta tra fulgi da luce e nera tenebra, sta a voi, piccoli miei. La terra ha ancora poca luce, perché sono molti coloro che hanno scelto le tenebre ed il buio del peccato. Figli amati, vi prego pentitevi dei vostri peccati, pentitevi e cambiate. Mio figlio vuole perdonare e dare pace, ma voi dovete supplicare ai suoi piedi il perdono con cuore sincero. La terra cambierà, quando tanti si prostreranno a lui per supplicare il perdono e la pace. Voi, piccoli più piccoli, date la testimonianza, date l'esempio, siate i coraggiosi testimoni dell'amore di Gesù. Non temete sarò sempre con voi e non vi lascerò soli. Mi dice la piccola figlia madre, se tu sei con noi, ci sentiamo forti e coraggiosi. Vogliamo che presto ci sia il trionfo del cuore di Gesù e del tuo cuore. Ogni fatica ci pare riposo, quando serviamo Dio, e ogni umiliazione è diletto. Madre cara, aiutaci nel cammino ad essere gli arditi testimoni del Vangelo. Figli amati, sono con voi. Il padre caro lo permette e con gioia vi aiuto. Insieme, cuore con cuore, adoriamo, adoriamo, adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio. Maria Santissima.